eccoci buongiorno buongiorno a tutti siamo in diretta fateci sapere man mano che vi collegate se ci vedete bene se ci sentite bene dateci un cenno su facebook o youtube dove ci state seguendo mentre vi collegate intanto vi do il benvenuto da parte di tutto il team di ted ex vicenza a questa seconda puntata dell'altro binario la prima si è tenuta il 2 maggio che era il giorno del nostro evento che purtroppo come tanti altri eventi live non si è potuto tenere al momento però l'abbiamo solo posticipato contiamo insomma di poterlo recuperare presto intanto ci siamo un po inventati questo format che è un po diverso ovviamente dagli interventi a ted ex che siete abituati probabilmente se ci seguite a vedere ma sono delle vere e proprie interviste anche oggi abbiamo tre ospiti con noi e ci alterneremo tra me e altri componenti del team nell'intervistarli a vi segnalo ovviamente che c'è già un altro appuntamento sarà il 30 giugno martedì dalle 20 e 30 alle 21 e 30 per cui a tenetevi liberi insomma per seguirci in diretta anche quella sera con altri ospiti con noi oggi ci saranno ulio velasco ci sarà giac giaselli musicista e ci sarà anche antonio deruda che è un docente di comunicazione digitale con loro vedremo altri temi appunto per questo viaggio verso futuri possibili che stiamo un po immaginando insomma per prepararci al futuro che in parte è un po già qui insomma per capire meglio come affrontare questo momento se avete voglia di fare delle domande ai nostri ospiti potete tranquillamente farlo nei commenti rispetto insomma dei tempi noi cercheremo di farle tutte ai nostri ospiti quindi commentate la diretta scrivete delle domande perché appunto le faremo poi live ai nostri ospiti io direi di iniziare con il primo ospite di oggi vediamo se sta arrivando intanto ve lo presento eccolo benvenuto appunto jack giaselli che questa mattina è qui con noi tutto bene tutto bene grazie sono molto di essere qui con voi questa mattina benissimo grazie mille per aver accettato il nostro invito ti presento velocemente per chi non ti conoscesse appunto jack giaselli è musicista cantante ha suonato a fianco di musicisti tra gli altri ben arper savia rad jack savoretti e ha fatto un bellissimo progetto di cui parleremo anche poi nella nostra chiacchierata musicale e documentario realizzato assieme alle detenute del carcere femminile della giudecca di venezia quindi avremo modo anche di parlare un po di di questo tuo bellissimo progetto appunto però prima ti chiederei visto che sei musicista no e in questo momento la dimensione un po della musica live ovviamente come i nostri eventi ha avuto un po uno stop e soprattutto per i concerti al momento non ci sono ancora certezze particolari su quando si potrà rifarli ovviamente al periodo un po peggiore per questo perché la primavera l'estate sono il momento in cui tantissimi concerti si tengono e questo è un problema sia per chi è musicista che per chi lavora nello spettacolo no visto che tu nella tua esperienza hai anche provato varie modalità di live ti chiedo un po quali sono secondo te i modi per cui si può suonare live e quali esperienze magari modalità creative esistono o possono in qualche modo diciamo sostituire i concerti dal vivo in questo momento sì è una domanda veramente interessante perché la musica in particolare negli ultimi anni ha spostato anche quello che è tutto il suo mercato quindi tutti i suoi numeri e la maggior parte degli introiti verso l'attività dal vivo che è anche il motivo per cui molti cantautori tra cui sottoscritto hanno hanno deciso di fare questo lavoro cioè per fare i concerti perché è la parte forse forse più bella ora bisogna anche capire cosa vuol dire live perché ultimamente i live si stanno facendo però sono live streaming no quindi la tecnologia sicuramente entra a far parte in modo dirompente della nuova realtà dei concerti in america dei grandi promoter come peter shapiro che per esempio è il proprietario della bowling ball di new york praticamente lui si sta chiedendo quali possano essere i futuri possibili senza dubbio la tecnologia sarà uno di questi ci saranno contenuti premium ci sarà la realtà virtuale la realtà aumentata che entrerà a far parte di questa nuova modalità per fruire i concerti quindi con contenuti extra con dei tour che saranno in pay per view si ipotizza e una qualità di trasmissione di broadcasting sempre aumentata ovviamente quindi contenuti speciali che si sbloccano in realtà aumentata anche la possibilità di avere accesso nei backstage anche se in modo virtuale il problema però è cosa succederà la musica dal vivo intesa proprio come dal vivo c'è distanze ristrette spazi che che possono accogliere tante persone ovviamente si ipotizza una riapertura del tutto verso il 2021 estate 2021 con una capienza ridotta degli spazi dal 25 al 50 per cento è ovvio che per i concerti rock per i concerti pop ipotizzare un distanziamento nella platea nel pubblico magari dei concerti visti da seduti è molto diverso ma soprattutto ci sono anche altri aspetti da tenere presenti cioè i palchi da montare i backstage i trasporti tutte queste i tour bus i furgoncini se devono essere tenute delle distanze di sicurezza veramente viene messo in gioco la possibilità di farli o meno sia dal punto di vista del pubblico ma anche dal punto di vista di dietro le quinte sui palchi insomma è veramente qualcosa che stimolerà secondo me la creatività di nuove soluzioni quindi la tecnologia il virtuale è qualcosa che ci può venire in soccorso ma ovviamente come dice anche ultimamente ha detto joe per il chitarrista degli aerosmith è difficile pensare un concerto rock con il distanziamento sociale c'è per esempio anche chi pensa a un testing molto rapido in america hanno proposto questa soluzione di di arrivare tre quattro ore prima nell'avenio e iniziare a fare un testing quando si potrà e quando sarà stato sviluppato un testing molto rapido per poter permettere a chi è immune a chi ha fatto gli anticorpi comunque chi non è positivo al virus l'entrata nei concerti però secondo me navigliamo ancora a vista ecco certo è impensabile tu prima dicevi accennavi a varie esperienze che ho avuto la fortuna di poter vivere nei concerti cioè da concerti molto affollati in posti piccoli a concerti in posti molto grandi come gli stadi e l'anno scorso addirittura ho fatto un tour a piedi per l'italia fermandomi dove volevo quando volevo a suonare in qualsiasi posto mi venisse in mente ovviamente questo ora come ora è impossibile però direi che il futuro è in cerca di soluzioni in questo in questo momento quindi le più immediate sono quelle che ci hanno permesso di vivere la musica anche in questi mesi cioè quelle mediate tecnologiche sì esatto speriamo infatti appunto perché io da frequentatrice di concerti effettivamente è una cosa di cui sento molto la mancanza ma si capisce benissimo la difficoltà come dicevi tu anche proprio tecniche di gestione per poter tornare a viverseli con la giusta tranquillità perché comunque è un momento di divertimento che giustamente deve rimanere tale no sì accennavi appunto al tuo tour che hai fatto a piedi raggiungendo appunto vari luoghi e fermandoti dove volevi per poter appunto suonare cosa significa cosa ha significato per te suonare appunto arrivando raggiungendo un luogo a piedi e se magari ci racconti un po' quali relazioni si instaurano con le persone in un momento così perché appunto magari rispetto a un concerto in un locale in uno stadio dove le persone hanno si sono organizzate insomma per partecipare lì magari è più una cosa che che li sorprende sì è il termine della della sorpresa che ho usato sorpresa è proprio adatto nel senso che io sono partito da Milano a piedi ho preso la via francigene da Pavia fino a Roma e quindi lungo la via francigene due o tre chilometri in più a fine giornata dopo che nei fatti venti o venticinque inizia a essere abbastanza determinante quindi ovviamente non puoi andare a cercare i club non puoi programmare un tour quindi io semplicemente in alcune delle tappe mi sono fermato e ho suonato in posti dove spesso non avevano neanche mai fatto un concerto o non avevano neanche sentito parlare di me o o appunto non c'era c'era un po' l'evento di questo cantastore che si spostava di luogo in luogo quindi con la chitarra che mi portavo attaccata allo zaino ogni volta era anche una sfida capire se c'era un impianto se non c'era se non c'era appunto come poteva essere l'acustica del luogo però quello che che si forma è una sorta di di modo adesso di tu stai portando la tua esperienza in cui sei partito e il modo in cui si trasformano e spesso si creava anche una sorta di pubblico itinerante perché chi è in cammino con me lungo la francesa per caso nello stesso momento nello stesso periodo di tempo poi lo ritrovavo a uno due tre o quattro concerti quindi si creava quasi una famiglia itinerante che si ritrovava la sera e poi lo scambio con il pubblico qualcuno poi ha deciso di partire di mettersi in viaggio in quei giorni quindi era una realtà molto dinamica e molto basata sul contatto anche no certo quindi quindi radicalmente diverso da quello che si può fare adesso assolutamente era interessante vedere come i luoghi era interessante vedere come i luoghi diversi anche fisicamente rispondessero a suono in modo diverso oltre al pubblico proprio il luogo anche infatti questa è una cosa molto bella che anche tanti musicisti magari hanno provato a suonare in luoghi naturalistici diversi per vedere mi vengono in mente i Sigurros ad esempio che hanno fatto questo tour in Islanda suonando in luoghi naturalistici molto particolari che quindi i suoni reagivano cambiavano a seconda del luogo in cui si trovavano quindi è sicuramente un'esperienza molto interessante e bellissima anche da ascoltare speriamo di poterla fare presto ma in attesa di poterti sentire di nuovo live Jack io direi la facciamo una canzone tra una chiacchierata e l'altra ci fai sentire qualcosa certo certo allora vi faccio sentire un po quella che è stata la la colonna sonora di questo viaggio a piedi che si chiama torno a casa e si chiamava torno a casa a piedi anche se io partivo da casa a piedi a Milano e arrivavo a Roma sono stato giù ma ora mi metto in via ma ora mi metto in via ho fatto scorto di coraggio torno a casa a te parco inciampando in tutto quello che c'è non so neanche perché il mio viaggio mi sono perso per cercare te i piedi sulla sabbia non c'è più nessuna rabbia e quando il sole del mattino farà luce sulla strada per portarmi più vicino so che ho camminato tanto e ho confuso le musate con il pianto torno a casa a te sano e salvo inciampando in tutto quello che c'è non so neanche perché il mio viaggio mi sono perso e poi ho trovato te il mio viaggio mi sono perso e poi ho trovato il mio viaggio mi sono perso e poi ho trovato il mio viaggio mi sono perso ti faccio una domanda proprio perché il carcere è diventato durante il lockdown anche un tema abbastanza chiave da un lato perché senza voler fare assolutamente nessun paragono ovviamente perché il tipo di reclusione che possiamo aver vissuto noi per quanto possa essere stato difficile e psicologicamente provante per tanti insomma è completamente diverso dalla reclusione vera che può provare appunto un detenuto e quello che hai visto tu perché tu effettivamente hai visto lavorando con loro che cosa vuol dire la vita in carcere e poi appunto durante il lockdown il tema delle carceri è diventato appunto molto critico perché per motivi proprio di distanziamento per mantenimento anche della sicurezza della salute appunto dei detenuti sono stati ad esempio ridotti tutti i contatti con l'esterno quindi anche i pochi contatti con i parenti che queste persone possono avere sono stati ridotti completamente no ci racconti un po' come è stata questa esperienza questo lavoro che hai fatto appunto con le detenute e in che cosa è così diversa sempre appunto evitando paragoni una detenzione di questo tipo sì allora il mio è stato un lavoro particolare oltretutto è stato in un carcere femminile nella casa di reclusione della giudecca a Venezia che quindi è anche un suo una sua spazialità che è diversa perché è proprio sull'isola della giudecca quindi è un carcere che oltretutto è isolato ed è un carcere femminile i carceri femminili sono cinque praticamente su duecento in Italia sono quelle dedicate solo alle donne poi il resto sono le detenute sono ospitate in strutture che hanno una sezione femminile ovviamente io la canzone che ho scritto con le detenute facendo un laboratorio scrivendo proprio tutti insieme un testo ogni donna ha scritto una parola riguarda una tematica che hanno scelto loro che è quella della libertà quindi la riflessione era quanto mai azzeccata perché la libertà descritta da lontano la libertà scritta per difetto descritta per difetto quindi ovviamente il richiamo a ciò che può sapere di libertà viene sempre dall'esterno e posso solo immaginare che in questo periodo con le notizie confuse poche che arrivavano dall'esterno e l'interruzione dei rapporti e delle visite fosse estremamente complicato oltretutto dobbiamo pensare che c'è una spazialità molto diversa nel senso che oltre a quella specie di sospensione del tempo che quella forse è l'unica cosa che credo possiamo aver provato di simile in questo periodo c'è il completamento di una sensazione temporale che si fa quasi gelatinosa una sospensione oltretutto c'è una dimensione spaziale molto diversa quindi spesso sovraffollamento la mia esperienza lì dentro è stata entrare in punta di piedi e provare all'interno di una situazione del genere a condividere e a mettere in comune quella che invece potesse essere la mia esperienza della libertà e la loro per difetto quindi è nata una canzone che voleva essere la voce di una mancanza e di un desiderio che veniva dall'interno di quelle mura ovviamente per forza mediata dalla mia sensibilità che avevo vissuto quell'esperienza solo tramite loro certo ma senti ce ne faresti sentire un pezzettino perché adesso mi hai incuriosita nel senso che vorrei sentire il risultato io ovviamente l'ho già ascoltata però ci terrei insomma che la sentissimo live visto che ne hai parlato vi faccio sentire un pezzo di questo brano che si chiama nonostante tutto poi lo potete trovare completo e appunto ponendo l'attenzione al fatto che le parole che sentite le ho assemblate io ma i mattoni sono stati messi dalle detenite bisogna usare la filosofia e la supportazione metter l'infinito dentro una canzone volare via di qua bisogna respirare la speranza in mezzo alla tempesta come il profumo di un giorno di festa che ricordi solo a metà e non mi importa chi mi ha tagliato voglio sapere che mi hai perdonato urlarti in faccia che tutto è cambiato e lancia la porta aperta da miei reali che hanno messo via la libertà non è una geografia la libertà qualunque cosa sia e lascia la porta aperta e tira fuori i sogni dal cassetto e presto o tardi io torno da te e ora so che un altro modo c'è grazie, grazie mille questa era la versione condensata esatto, invitiamo appunto ad andare a ascoltarla completa in tutti i tuoi profili perché appunto rende molto l'idea di che cosa è stato questo lavoro che hai fatto con loro e anche il significato, proprio la percezione che queste persone possono avere appunto della libertà visto appunto che abbiamo parlato anche di lockdown ovviamente perché è più o meno finito come dire però siamo stati chiusi in casa per due mesi siamo ancora tornati alle nostre abitudini tutti quanti e c'è un po' questo mito, abbiamo chiesto anche a Maurizio Carucci degli Exotago che è stato nostro ospite il 2 maggio c'è questo mito un po' dell'artista che è chiuso in casa sicuramente scriverà, produrrà cose meravigliose ma non è sempre così per te, com'è stato per la tua creatività? com'hai vissuto un po' il lockdown? che cosa succede nella tua esperienza della creatività di un artista durante un periodo di questo tipo? allora, il mio punto di vista è abbastanza particolare perché sono riuscito a lavorare molto su cose che avevano bisogno di un impegno razionale quindi magari sulla produzione dei brani sul mettere insieme dei podcast sul mixare delle cose recuperare materiale passato e rimetterlo in ordine ma la parte della creazione per me non è stata di certo aiutata perché forse, non so, mi viene in mente Aristotele che dice che lo stupore è l'inizio della filosofia per esempio secondo me è anche l'inizio della creatività anche della musica avviene quando i bisogni primari sono stati quietati quando io personalmente quando avverto una situazione di pericolo o comunque di incertezza per quanto riguarda proprio la vita e le cose più importanti della vita non riesco molto a fare spazio e ad ascoltare quello stupore e quella meraviglia che poi portano alla creatività quindi in un certo senso c'è il richiudersi su se stessi o in se stessi stando in casa isolati da tutto e concentrarsi però per quanto mi riguarda è stato un concentrarsi su cose che richiedevano un impegno razionale, un lavoro e però non molto efficace per quanto riguarda il lasciare accadere le cose l'essere colpiti da qualcosa che poi scaturisce e fa scaturire della creatività magari arriverà in un secondo momento dopo che viene metabolizzato questo momento che ha avuto un impatto così grande questa è stata un po' l'esperienza che ho avuto e devo dire che anche i miei colleghi che ho sentito si sono divisi in due c'era chi lavorava incessantemente quasi proprio per isolarsi però insomma anche chi ha scritto mi ha detto che non è riuscito a scrivere cose molto a parte felici ovviamente ma anche molto lucide proprio perché la confusione e l'incertezza erano la cifra predominante in questo momento però credo che ci sarà una produzione a seguito di questo molto feconda speriamo dai che così anche speriamo che sia un po' asservito in qualche modo a dare linfa anche alla creatività perché effettivamente è stato un periodo sicuramente duro scusatemi per tutti vediamo vedo un commento allora Valentina dice che è un progetto davvero interessante un risultato emozionante quello che hai fatto appunto con le donne del carcere della Giudecca io ti faccio un'ultimissima domanda prima di fartela invito ovviamente se chi ci sta guardando ha una domanda abbiamo ancora qualche minuto quindi eventualmente abbiamo il tempo insomma per farla a Jack quindi scrivete pure nei commenti e intanto ti faccio quest'ultima domanda che stiamo facendo un po' a tutti i nostri ospiti dell'altro binario stiamo costruendo una valigia virtuale in cui ognuno di noi mette un oggetto un concetto una parola qualcosa da portarsi poi per questo viaggio verso futuri possibili tu in questa valigia che cosa metteresti cosa porteresti con te? se si potesse impacchettare mettere in una valigia la fantasia la fantasia proprio perché è quella cosa che ci permette di immaginare un futuro diverso a volte anche folle ma quindi di gettare un ponte tra quello che stiamo vivendo e quello che vorremmo vivere ed è la miccia che fa poi scaturire il lavoro concreto e come insegna la storia infinita è anche quello che permette al mondo di salvarsi dall'oscuro che avanti ottimo bellissimo in effetti poi è anche magari quello che ci permette di trovare delle soluzioni visto che con te abbiamo appunto parlato anche un po' di possibili soluzioni per tornare a vivere i concerti live e non solo quindi speriamo insomma cioè sicuramente è una cosa utile la prendiamo e ce la portiamo con noi io ti ringrazio tantissimo Jack per essere stato con noi questa mattina e ci vediamo presto ovviamente grazie a te e a tutti voi invito tutti andare ad ascoltare anche gli altri tuoi pezzi e speriamo di vederti presto live spero anch'io grazie mille a tutti e a presto a presto